Il miglior amico dell'uomo? Naturalmente il cane. Lo sa bene anche Opel Italia, che ha di recente siglato un accordo di collaborazione con l'ente nazionale protezione animali per combattere la problematica dell'abbandono dei cuccioli a quattro zampe che si aggrava come di consueto nel periodo estivo, in concomitanza con le vacanze. La filiale italiana della casa di origine tedesca ha infatti donato all'EMPA due Opel Combo a sostegno delle operazioni di pattugliamento autostradale per le attività di salvataggio degli animali. L'automobilista italiano risulta per il trasporto degli animali più disciplinato del trasporto di altri soggetti, ad esempio i bambini. Con i bambini l'italiano è molto più indisciplinato. Ovviamente se il mezzo ha caratteristiche e accessori per aumentare questa gestione dell'animale in modo consono secondo le normative, questo sicuramente aiuterà a essere il 100% disciplinato. Ma la missione di Opel non si ferma qui, perché è stato anche realizzato un allestimento speciale di combo pensato proprio per il trasporto dei nostri amati cani, approvato dall'EMPA e con tanto di bollino di riconoscimento dog-friendly. La versione speciale si chiama Pet Lovers Edition ed è provvista di elementi utili al trasporto di animali. C'è la rete di protezione per far viaggiare i nostri amici a quattro zampe nel pieno rispetto del codice della strada. Il coprivano lavabile, che assicura un'agevole pulizia del vano posteriore e lo speciale accessorio Flex Floor, che dividendo il vano posteriore assicura la disponibilità di spazio sia per il cane sia per i bagagli. Il tutto offerto a un prezzo di 13.900 euro. Sosteniamo sicuramente il tema degli sforzi di EMPA per l'abbandono degli animali, soprattutto in questo periodo estivo. Lo sosteniamo non solo a livello valoriale, ma anche con la fondatura concreta di due mezzi che vogliono aiutare EMPA per combattere sul territorio questa spiaga. Insomma, andare in vacanza è un piacere e lo è ancora di più se si porta con sé il proprio cane, ma farlo con l'auto adatta rappresenta la soluzione perfetta.